Qui la partita. È stata una partita ricca di gol. Nessuno è riuscito a prevalere. Qual è la tua analisi di questa gara, Luca? Avevano di fronte un avversario all'altezza. La partita è stata un continuo tira e molla e alla fine hanno diviso il bottino a metà. La nostra telecronaca termina qui. Ringrazio Luca Marchegiani per avermi accompagnato. Ricambio ringraziamenti. Grazie. 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 Grazie.